Ecco a voi gli assorbenti SenniLady Slim Micro. Sono molto sottili e ottimi per assorbire l'urina. Guarda tu stesso. Per il confronto verserò del liquido sull'euroinserto assorbente e su un normale assorbente che puoi trovare in qualsiasi supermercato. Verso il liquido sull'assorbente SenniLady e ora sull'assorbente classico. Come vedete l'assorbente SenniLady assorbe immediatamente i liquidi lasciando la pelle asciutta a lungo, evitando così irritazioni da umidità. SenniLady Slim Micro.